Entrare a far parte del nostro corso di laurea magistrale in Management Engineering significa frequentare un contesto di formazione davvero internazionale con docenti e studenti che provengono da tutto il mondo. Nelle nostre aule troviamo fino a un 50% di studentesse e studenti internazionali e il 25% dei nostri laureati ha svolto un periodo di studio all'estero. Le competenze maturate, la capacità di impegno e il senso di responsabilità in ambito internazionale sono gli elementi fondanti per i nostri laureati. Con il progetto 10 Students, 10 Stories vogliamo aumentare il numero di borse di studio che già offre il Politecnico di Milano per selezionare studentesse e studenti che hanno mostrato un elevato potenziale durante il loro bachelor o corso di laurea triennale ma non possono proseguire gli studi per motivi economici. Queste borse di studio permetteranno di frequentare la nostra laurea magistrale e cogliere a pieno tutte le opportunità internazionali che siamo in grado di offrire. Il corso di studi in ingegneria gestionale è per tutti e per tutte. Vogliamo che tutti gli studenti e le studentesse con il potenziale di eccellere abbiano la possibilità di studiare ingegneria gestionale al Politecnico di Milano. Crediamo nel valore del talento e vogliamo abbattere le barriere economico e sociali che ancora esistono. Tutti possiamo dare un contributo piccolo o grande per consentire a dieci ragazze o ragazzi di studiare ingegneria gestionale al Politecnico di Milano. Dona anche tu!